Via la seconda fase della campagna abbonamenti dell'Oriora Pistoia Basket, questa seconda finestra che andrà avanti fino al termine di agosto è aperta anche a tutti i non abbonati della passata stagione. Intanto la prima parte della campagna abbonamenti a canestro una città si è chiusa con 886 tessere rinnovate, un numero simile ad un anno fa ma con due sostanziali differenze, la durata della vendita inferiore al 2018 e il fatto che si arriva da una stagione a dir poco negativa, che aveva provocato il disamoramento di molti sostenitori biancorossi. Pensare di aver chiuso la scorsa stagione all'ultimo posto della 1 come affluenza al palazzetto e trovarsi oggi, un mese e mezzo dopo, a sfiorare quota 900 tessere rinnovate è stato un dato straordinario, ha sottolineato il responsabile marketing Maurizio Laudicino. Da ora in avanti dobbiamo migliorare ulteriormente. Per questo la società si impegnerà da un lato ad allestire una squadra all'altezza e dall'altro a mettere in piedi ogni tipo di iniziativa atta a coinvolgere tutta la provincia, perché no, la regione intera. A proposito di abbonamenti, la società comunica anche che, preso atto della mancata iscrizione della Scandone Avellino al prossimo campionato, la giornata biancorossa è stata annullata. I prezzi della campagna abbonamenti, già basati su 16 partite, resteranno quindi invariati. Infine vanno segnalati altri tre ingressi nel consorzio Pistoia Basket City, che quindi continua a crescere sfiorando quota 100 soci. Gli ultimi arrivati in ordine di tempo sono la Svra Service, Pistoia Casa, e Termoidraulica, Bertini. Grazie. 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 Grazie.